Lo posso prendere come un gesto conciliatorio? Semplice cortesia, direi. Ti sei levato una bella zavorra andando via dall'azienda. Sei un uomo libero. Non è possibile essere liberi nella nostra famiglia. Siete come una condanna. E hai intenzione di sterminarci tutti? No. Ho provato a stare da solo per un po', ma come vedi non ci sono riuscito. Mi sei mancato Stefano. Mi manchi. Sembra di essere appena uscita da una centrifuga. Come se qualcuno mi avesse messa sotto pressione. E adesso chi sarebbe l'ha detto alla decompressione? Il tuo giovanotto? Questa era una battuta. E se non sbaglio mi hai dato anche un indizio su quello che sarà il tuo futuro. Macchine? Se io non l'avessi scoperto, te me l'avresti detto? No. Volevo solo il tuo bene. Quello che volevamo tutti. Vado. Sì. Ciao. Ciao. Arrivederci, professore. Arrivederci. Mi porti fuori a cena stasera? Stasera? È un po' un casino. Non ce la faccio propria. Ho giusto un'oretta e poi devo andare. Un'oretta? Non guardarmi con quegli occhi. È il suo compleanno. Ci vediamo un'altra volta. Io voglio stare con te stasera. Te l'ho anche detto. Vuoi farmi passare per lo stronzo di turno, eh? Ma lo sai in che situazione complicata che mi trovo? Ho sempre una voglia di te che mi sembra di impazzire. Te la tieni la voglia. Nico, aspetta! Nico! Non resta. Ma vado a via? Ciao! Grazie.